Si è aperto questa mattina a Berna presso il Tribunale Militare il processo a carico della Guardia di Confine, ritenuta responsabile dei fatti successi nell'estate del 2014 fra Svizzera e Italia. Nello specifico si tratta del rinvio a Domodossola di un gruppo di 36 siriani, fra queste anche una donna incinta che una volta giunta nel capoluogo solano e soccorsa dalle forze di polizia, partorì il feto oramai morto all'ospedale San Biagio. Per quei fatti la Guardia di Confine deve rispondere dell'accusa di omicidio, tentato omicidio e interruzione di gravidanza. I fatti si riferiscono appunto a luglio 2014, la comitiva di migranti era diretta in Francia, ma la frontiera di Valorb fu bloccata e presa in consegna dai gendarmi Svizzera, che a loro volta scortarono il gruppo sino alla stazione di Domodossola. Stando alle accuse, la Guardia Elvetica avrebbe sottovalutato la situazione incurante dei dolori accusati dalla donna in stato di gravidanza, avrebbe deciso di non far scattare i soccorsi, anzi di proseguire il viaggio verso la stazione ossolana, un caso che per i risvolti umani aveva sollevato forti polemiche a livello internazionale. La sentenza è attesa entro lunedì.